Stiamo entrando alle cucine popolari da Morgantini. Buongiorno, ciao. Cosa c'è di buono da mangiare qui? Vai, vieni che ti faccio vedere. E' solo un po' affamato. Allora, questo è un po' abbondante. Buon appetito. Buon appetito. Le porzioni sono enormi, abbondanti, quindi ci si mangia in due e in desiderio. La pasta la cucerei un minuto in meno, perché la abbiamo però prima. Un risultato ottimo, che dire. Grazie mille per questo invito qua, pranzo da te. Grazie a voi. E invece ti invito alla tre giorni del welfare, questo fine mese. Perfetto, ci sarò. Grazie.